Oggi passeremo una giornata sulla Black Snake con due ambassador TOC, Marco Melandri e Pippo Marani, due ambassador a me molto vicini perché impersonificano l'idea e la passione di TOC per la bicicletta, la bicicletta elettrica, per la downhill. Porteremo Marco ad affrontare per la prima volta questa downhill famosa in tutto il mondo e sono sicuro ci divertiremo e Marco sarà un grande come sempre. Ragazzi siamo alla Vista dei Conti, il primo giro di Marco con l'Elettrics sul Black Snake? La tecnica la dovresti avere, l'abbiamo tutti dai miei amici, l'abbiamo imparata, ormai la sua memoria. La velocità ce l'ha e quindi le restiamo pronti. Vedi di non addormentarti, attaccala dal primo gap, però Marco ho una cosa, devi metterti il casco, qua, non quello da ballerino, ci vuole un casco sempre. Buona la prima, adesso gli attende il bosco, yeah! E' tosta, tosta, senza maestro non scendevo. Bello, bello, sempre bello girare la Black Snake. Complimenti a Marco, a Pippo e a Stefano!